Cosa a me ce ne sono un sag? Ma queste cosa servono ragazzi? A chi è che lo sa cosa servono? C'è il terreno. Cosa a me ce ne sono? Cosa a me ce ne sono? Sono andate a prendere il finocchio, si sono presi i finocchi per fare la merenda col finocchio, perché abbiamo un orto didattico esclusivamente per la scuola praticamente. Infatti anche la geometria l'altro giorno con l'educatore, il maestro Elio, sono andati su, hanno fatto le misure dell'orto, hanno preso le misure per fare un quadrato, un rettangolo. Siamo sempre fuori. Il nostro progetto è fondato sull'aggancio con la natura. Molte volte ci ritroviamo a trattare, a parlare di magari elementi grammaticali o in matematica, in cose quindi molto tecniche. Al parlare, al guardare, a osservare, andare a uscire fuori, andare a fare le passeggiate per vedere nel concreto cosa la natura ci può dare rispetto a quell'argomento. Ci troviamo a Imperia, in zona Caramagna, siamo in strada Vasia, presso l'azienda agricola Rolè. Da settembre 2020 è partito il nostro progetto, un'educazione parentale in natura. Abbiamo dato il nome a questo progetto, Corazon Sitos, perché loro per noi sono dei cuoricini e ci insegnano veramente tante cose. Avevamo già in progetto quest'idea io e un'altra mamma, perché mia figlia e la figlia di questa mamma erano nella stessa classe. Avevamo l'idea di una scuola diversa, più a contatto con la natura. Di fatto oggi siamo otto bambini con tutte le famiglie che ci aiutano. Ci sono i bambini della primaria, quindi dalla prima elementare alla terza media. Quella cosa che ci è piaciuta molto è il fatto che collaborano tra di loro. I grandi aiutano molto i piccoli e viceversa. Il mandorlo è bianco, poi quelli fiori fiorolini così, rosa, c'è i ciliegi. Carini. Io facevo tecnico societario in una società di ginnastica artistica qua in Peria. All'inizio ero spaventata perché ho detto, da dove partiamo? Sono sempre stata molto vicina all'aspetto psicologico dei bambini e il modo in cui crescono. Sentendo Rosi e le altre mamme, sentendo quello che desideravano per i loro figli, mi sono sentita in linea con loro sia come futura mamma ma anche come persona, perché ho detto, sì, è giusto che i bambini vivano nella natura e non si estraneano da tutto quello che c'è intorno. Dedicare il mio tempo alla loro educazione per me è fondamentale perché in realtà cresco con loro. Gli ho sempre detto, io non vi insegno nulla, tiriamo fuori ciò che avete dentro. L'obiettivo è portare di nuovo l'umanità alla compassione, alla gioia di vivere, di aiutare, di condividere. Quindi ho detto, se questo può essere il mio posto nel mondo per poter dare questo tipo di contributo, beh benvenga, sono al loro servizio completamente. È fondamentale che l'ascolto sia la base, ma ascoltare davvero, non solo sentire le parole, ma sentirle, percepirle nel nostro cuore. Puntiamo molto su questa cosa, in effetti, sull'autostima, sull'ascolto dell'altro, la crescita personale. Noi la chiamiamo, è vero, educazione, scuola parentale, la chiamiamo in tutti i modi, ma il nostro vero e grande obiettivo è che crescano delle persone e gli cresca l'anima. Ci siamo rese conto che questo tipo di approccio ai bambini ha dato a loro un beneficio immenso sotto l'aspetto proprio relazionale, non solo sotto l'aspetto dell'apprendimento, perché hanno delle conoscenze pratiche acquisite che io sto imparando con loro. E sono loro che ti portano, tu non te ne rendi conto in realtà. Se ti dedichi davvero a loro col cuore e con lo scopo finale di arrivare alla fine della mattinata, della giornata, sapendo di aver dato qualcosa, sicuramente al 100% hai dato il meglio di te e hai raggiunto l'obiettivo. Personale insieme ad altre ragazze che, come lei, erano esperte. Per me l'Italia che cambia è libera di esprimersi, libera di dire quello che pensa. Per me l'Italia che cambia è speranza, è compassione, gioia, è umanità. Per me l'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.